Ciao a tutti, in questo video, video recensione di Kubuntu 2004 LTS con KDE 518, sempre LTS. Ho già fatto altri video su Kubuntu e KDE, quindi in questo video mi concentrerò più che altro sulle nuove funzionalità che sono state introdotte. Allora, la prima, che appunto nella versione precedente non c'era, è la modalità notturna, quindi se voi digitate night è possibile abilitare appunto la modalità notturna, quindi quella con lo schermo leggermente rosso che è utile nelle ore notturne. Ho provato a registrarla, però non si vede, quindi fidatevi, se l'abilitate qui e fate apply vedrete appunto il filtro rosso che è utile più che altro nelle ore notturne per non vedere i colori troppo sparati. L'altra cosa molto importante che nella versione precedente non c'era è il supporto alle applicazioni GTK, perlomeno quelle in versione 3, e il fatto che non era possibile ridimensionarle, quindi se noi apriamo un'applicazione GTK, adesso come potete vedere è possibile ridimensionarla, quindi molto comodo. E sempre a livello di applicazioni è stato introdotto anche la funzionalità che supporta le emoji, quindi andando su un campo di testo fate super appunto e vi esce fuori appunto questo emoji picker, dove potete cercare voi un emoji che vi piace o in alternativa digitare alcune parole e vi vengono suggerite appunto le emoji che corrispondono a quella ricerca. Quindi una volta copiata l'emoji potete fare tasto destro, incolla e vi esce fuori l'emoji che avete copiato. Altre cose carine, vabbè c'è sempre il KDE Connect che non vi faccio vedere ma è molto interessante, vi permette di trasferire i file dal vostro smartphone Android al computer, una volta fatto il pairing. E l'altra cosa carina è che vi permette di utilizzare lo schermo del display dello smartphone come se fosse un touchpad remoto, molto interessante, oppure utilizzare sempre lo smartphone Android come se fosse un telecomando Wi-Fi per il vostro computer. Altre cose, allora come dicevo questa è la versione che è ancora in sviluppo però potete già utilizzarla adesso ed è KDE Plasma 5.18.3 su Ubuntu 20.04 LTS. Che dire, a questo punto è solo più una questione di gusti, se volete avere un ambiente desktop per Linux molto configurabile vi consiglio assolutamente KDE Plasma. In alternativa, se volete avere un'interfaccia un po' più pulita c'è sempre GNOME e appunto lasciatemi un commento secondo voi qual è l'interfaccia migliore per Ubuntu, KDE o GNOME. E l'altra cosa carina è che comunque il KDE consuma meno RAM rispetto GNOME, quindi appena attivo appunto mi dava appena 0.38 giga come RAM occupata, quindi niente male. E l'unica nota che adesso non sono stato a configurare particolarmente KDE, comunque l'unica cosa che vi consiglio di abilitare all'inizio è quella del soft touch e del natural scrolling, quindi se voi digitate touch, esce fuori il touchpad. E da questa interfaccia potete appunto abilitare allora questo tap to click che è utile poter diciamo selezionare un testo per esempio con il doppio tap senza andare fino in fondo nel trackpad. E l'altra cosa è il natural scrolling, quindi poter scorrere le finestre diciamo in modalità un po' più standard, però appunto questione di gusti, anche questo si può abilitare qui dall'interfaccia, si chiama Invert Scroll Natural Scrolling. Che dire, questa era la mia recensione di KDE 518, che dire, questo era quanto? Come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, vi saluto, ciao a tutti. Un'altra funzionalità è l'integrazione con la criptografia delle cartelle, è possibile utilizzare proprio questa interfaccia Vault per creare una cartella che potete tenere anche nel cloud e il contenuto di questa cartella è criptato. Quindi qua basta dare un nome e appunto qui vi dice un po' di cose, mettere una password e la cosa interessante di questa cartella è che appunto la cartella criptografata si troverà appunto in questo percorso qui nella vostra cartella di utente locale. Viceversa la cartella spacchettata, quella decryptata sarà appunto in quest'altro percorso e questa cosa è molto carina, vederla appunto integrata in un ambiente desktop per Linux. Adesso qui sono in live, quindi non so se funzionerà, però l'ho provata e funziona. Ok. Ok, qua mi è dato errore, però vi assicuro che funziona e utilizza come tecnologie sottostanti CryptFS oppure EnkFS. Grazie. Grazie.